Oltre 300 interventi l'anno di chirurgia ricostruttiva, in particolare per le conseguenze del tumore al seno e per le gravi patologie legate all'obesità, di cui l'80% su pazienti provenienti da fuori regione e anche dall'estero, tra cui la Gran Bretagna. Sono questi i numeri del servizio di chirurgia ricostruttiva ed estetica della Casa di Cura Villa Letizia, che opera il regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Si tratta di risultati, ha detto il patron della struttura privata Enrico Vittorini, che producono un'importante mobilità attiva per l'ASL provinciale dell'Aquila e quindi per l'immagine e per il bilancio del sistema sanitario abruzzese. Secondo gli esperti, le prestazioni assicurate hanno portato la Casa di Cura a diventare un polo attrattivo a livello nazionale. A fare il punto della situazione sull'attività del servizio è il dottor Paolo Vittorini, professionista di fama nazionale ed internazionale, responsabile del servizio di chirurgia plastica e ricostruttiva e direttore del centro di chirurgia ricostruttiva post-obesità patologica della struttura. In riferimento a quest'ultima diffusa patologia, nella struttura privata è attivo il primo centro in Abruzzo finalizzata ad affrontare le patologie della grande e grave obesità. Effettuiamo centinaia di interventi l'anno, con una grande richiesta dall'Italia e dall'estero, con pazienti che giungono da tutta Europa, soprattutto dalla Gran Bretagna, anche solo per una visita, ha spiegato il chirurgo. Assicuriamo un ampio ventaglio di servizi innovativi ed efficaci in testa agli interventi chirurgici per la ricostruzione del seno in donne colpite dal tumore e nell'ambito delle patologie dell'obesità. Nel reparto diretto dal chirurgo aquilano opera un team di quattro professionisti, ognuno dei quali con competenze specifiche. Riusciamo a gestire una gran molo di lavoro, parliamo di centinaia e centinaia di casi l'anno, ha detto Vittorini. È molto importante, oltre alla branca che riguarda l'obesità, la ricostruzione mammaria. Non a caso eseguiamo interventi di svuotamento previo della mammella in tutte quelle pazienti che hanno una mutazione genetica per il cancro al seno. Siamo diventati un punto di riferimento regionale e nazionale per la ricostruzione del seno post-mastectomia o post-chirurgia oncologica della mammella. E poi c'è il capitolo a parte, ma comunque importante, della chirurgia estetica, una costola della chirurgia plastica, liposcultura, correzione di difetti fisici congeniti e non interventi necessari dopo 1 o 2 gravidanze. Tutti interventi che servono per riportare integrità e equilibrio nella figura del corpo.